Tragedia ieri sera a Crotone. Un ragazzo di 13 anni è morto mentre giocava a pallone in un campetto di calcio. Gianluca Ciaccio, questo il nome della vittima, si trovava con alcuni compagni sul lungomare di Crotone quando è stato colto dal malore e si è accasciato al suolo senza più riprendersi. Tutto è avvenuto sotto gli occhi inorriditi di compagni, parenti e passanti. I si è improvvisamente fermato. Ha chiesto di sedersi, qualche secondo dopo ha perso i sensi. A nulla sono serviti i ripetuti tentativi di rianimarlo degli uomini del 118, chiamati dalle persone che si trovavano sul litorale di Crotone, a quell'ora gremito di gente. Sul posto, in mezzo alla folla, anche i familiari della vittima, che aveva da poco conseguito la licenza media a Civitavecchia, da dove era venuto per trascorrere le ferie e dove si trovava ancora ieri il padre, ufficiale dell'esercito. Sulla tragedia sono state avviate indagini per accertare le cause della morte.